Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà un'area di bassa pressione muoversi verso le nostre isole maggiori, bassa pressione trattato che condizionerà il tempo al sud durante il fine settimana, soprattutto sabato. Insomma, un po' la fotocopia di quanto accaduto nello scorso weekend al centro nord invece la situazione rimarrà tranquilla. Controliamo la nuvolosità sull'Italia, ecco queste nuvole che da ovest raggiungono il nostro paese la parte che si muove verso il centro nord rimane molto sfrangiata invece sulla Sardegna, la Sicilia e poi al sud nuvolosità sempre più estesa e compatta. Come precipitazioni per venerdì sarà la Sardegna, la zona che vedrà le piogge più diffuse e intense anche sotto forma di temporali che poi coinvolgeranno piano piano anche la Sicilia e vi dicevo nel weekend le regioni meridionali. Quindi in definitiva venerdì all'insegna del maltempo in Sardegna con piogge vi dicevo anche piuttosto intense e venti sostenuti. Arriva qualche piovasco anche in Sicilia in giornata, per il resto il tempo tiene qualche breve acquazione pomeridiano sulle Alpi occidentali e temperature per il momento ancora più estive che autunnali a fine giornata però nuvolosità in rapido aumento al sud. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.